A un certo momento c'è in una caserma 10.000 uomini. Un giorno il capitano fa rapporto al generale. Signor generale, dice 5.000 soldati si sono inculati la mula. Grave, grave capitano, dovremmo prendere provvedimento, dobbiamo prendere provvedimento. Il giorno dopo, signor generale, 7.000 soldati si sono inculati la mula. Grave, grave, dobbiamo prendere provvedimento. Il giorno dopo, signor generale, 9.999 soldati si sono inculati la mula. Prendiamo provvedimento e li faccia schierare tutti. Va il generale, tutti schierati in cortile sull'attenti. Attenti, tutti sull'attenti, chi si è inculato la mula faccia un passavante. 9.999 soldati fanno un passavante, rimane uno solo, così, dritto, impalato. Va lì il generale e gli dice, complimenti, lei veramente è un vero soldato, lei ha capito lo spirito dell'esercito, nonostante tutto lei ha mantenuto i suoi principi. complimenti e gli dà la mano e gli dice, come si chiama? Enzo la mula.